Benvenuti in questa lezione di Istologia che è la continuazione della precedente. Stiamo ancora parlando delle ghiandole esocrine, quindi non seguitela minimamente perché se no sono tante le cose che sembra che io dia per scontate e invece non lo sono perché le ho spiegate nelle precedenti lezioni che metà bastano per farvi crollare. Quindi mi raccomando, seguite il filologico, ricordate, intanto ve lo dico, io non metto il copyright nelle mie immagini ma sono tutte immagini mie, queste e altre che vi faccio vedere tutte le immagini di microscopia dalla prima lezione all'ultima lezione di questo corso e non vi metto il copyright in modo tale che possiate vedere le immagini tutte belle chiare. Ve le ho scattate al microscopio, il mio fine è quello di farvi riconoscere appunto per il momento i tessuti e allora però tenete conto del fatto che se volete utilizzarle per qualcos'altro me lo dovete chiedere. Allora continuiamo. Mi raccomando abbiate sempre dinanzi a voi questo schemino con tutte le descrizioni e la spiegazione che vi ho fatto nelle precedenti lezioni per quanto riguarda la classificazione delle ghiandole in base alla morfologia dell'adenomero e all'andamento dei tubuli escretori. Allora state bene attenti, vi ho scattato alcune fotografie, altre ve le farò vedere a breve. Mi raccomando state attentissimi se no, se naturalmente vi state approcciando adesso all'istologia vi perdete come niente. Quindi questa fotografia ve l'ho scattata a un ingrandimento di 40x, quindi 40 volte più grande rispetto alla norma. Quest'altra fotografia ve l'ho scattata pure a un ingrandimento di 40x. Questa fotografia e come anche quest'altra fotografia ve l'ho scattata invece a ingrandimento di questa qui di 100x, quindi 100 volte più grande della norma, 100 ingrandimenti e questa di 400 ingrandimenti, quindi iniziate a vedere bene le cellule. Naturalmente adesso ve le zoomo, ve l'ho scattata con reflex ad alta risoluzione, quindi ve le posso zoomare quanto voglio. Sono naturalmente foto che vi ho scattato a microscopio. Allora, in che ragione siamo qui per farvi capire? Quindi se dovessimo disegnare un po' i linei generali in questo preparato istologico che vi ho fatto a 400 ingrandimenti la nostra ghiandola tubulare, semplice, quindi la nostra ghiandola gasterica, ecco sarebbe questa, e anche qua la stessa cosa. State bene attenti eh! Io vi faccio vedere tutte queste immagini che vi ho preparato e scattato al microscopio a diversi ingrandimenti, per far sì che voi abbiate maggiore familiarità e impariate, e osserviate, 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 se poi non ve ne frega altamente niente, perché il vostro esame di istologia è un esame in cui non dovete fare nessun riconoscimento di tessuto, e allora ovviamente seguite soltanto la parte teorica che io appunto vi spiego magari inerente ogni tessuto, no? piccola osservazione e via, non è necessario che siete lì a distinguere lì da morte e miracoli alle sezioni al microscopio, ma tanti studenti, tanti di voi che studiano in istrologia devono farlo, quindi è meglio che per voi se io insisto e vi faccio osservare più foto che vi scatto al microscopio. Allora quindi vedete, qui vi ho messo un esempio di una cellula, di una cellula principale più scura, una cellula principale che se cerne pepsinogeno, e qui, anche qui in questo caso, cellula parietale, la cellula, questa è un esempio di una cellula parietale che se cerne acido cloridrico.